ciao allora questa sera vi mostro un pacchetto che ho ricevuto oggi di un ordine che ho fatto domenica pomeriggiosa a sabrina cristalli oggi è mercoledì mi è arrivato tutto tramite corriere che era il metodo di spedizione che avevo scelto perché ho scelto corriere semplicemente perché quello che tra poco vi mostro mi serve per fare dei piccoli regalini di natale visto che oggi ormai è il 12 dovevo ricevere il prima possibile per lavorare soprattutto questo weekend sicuramente poi vi mostrerò comunque tutto quello che realizzo e per cui ho deciso di farvi vedere anche prima tutto quello che appunto ho preso allora i prodotti da sabrina sono sempre ottimi quindi ogni volta che acquisto da lei vado sul sicuro adesso vi faccio vedere che cosa appunto ho preso allora partiamo da da queste baggo ho preso queste qui che sono da 3 mm il suo codice è il 12 sono 10 grammi li ho pagati 2 euro e 20 sono un po più lilla rispetto a quello che vedete voi lo vedete un po più un viola oscuro però è un lilla un po più chiaro con l'anima in argento sono veramente veramente favolose vediamo se no il nome esatto non non ce l'ho però vabbè eventualmente andate sul sulla sua pagina facebook e sbirciate i colori appunto a disposizione questo è il numero 12 ed è molto bello sempre di baggo ho preso quelle a misura 6 mm e ho preso questo bianco perlato che a differenza di queste sono quelle che come posso dire non proprio dritte non vanno dritte lisce hanno diciamo una specie di ondina mamma mia io nelle spiegazioni sono sempre la top e vabbè e comunque anche qua 10 grammi li ho pagati 1 euro quindi veramente poco per provare a realizzare qualcosa vanno più che bene quindi ho preso appunto le baggo poi ho preso queste due chiavi queste due chiavi le ho pagate 1 euro e 52 sono molto belle sono da 4 cm e in argento semplici però non sono né troppo piccole né troppo grandi una misura secondo me è perfetta per realizzare o delle dei rivestimenti oppure quello che intendo fare io è mettergli un bel cabochon e decorarlo insomma quindi ho preso queste chiavi e veramente veramente sono stata felice di averle appunto prese perché sono ottime poi passiamo alle daghe ho preso delle daghe molto probabilmente qua per fare dei regalini a delle amiche che appunto perlinano e ho preso gli stessi colori sia per il 3x10 che per il 5x12 ho preso queste che sono queste sono 3x10 queste sono ecco le invertite e queste sono il 5x12 ed è questo bellissimo blu con tutti questi riflessi arcobaleno è veramente veramente bello e il colore è iris green e i pezzi sono 50 sono dentro e le ho pagate 3 euro queste qua 5x12 mentre 1 euro e 60 50 pezzi quelle da da 3x10 veramente sono sono belle insomma mi mi piacciono poi ho provato anche quest'altro colore che è l'iris brown sempre stesse misure 3x10 50 pezzi 1 euro e 60 e questo 5x12 e questo 5x12 iris brown 50 pezzi 3 euro quindi praticamente le ho pagate come quelle precedenti questo è un po' più difficile mostrarvi il colore tende un po' a un olive in tanto per dire un bronzo un olive in è un mix contiene anche qualche perlina che dà riflessi sul viola sul blu sono molto belle sono particolari tra le due comunque preferisco quelli dell'iris green è un colore un po' più un po' più particolare più più carino insomma però anche queste qua ho in mente di farci determinate cose sempre che non le regalo poi ho preso questi cabochon aspettate la misura ecco perché mi cadono i foglietti un secondo solo farò venire il mal di mare allora allora quindi i prezzi delle daghe appunto ve li ho dette i cabochon 18x13 ne ho presi 3 allora li ho pagati tutti e 3 8,40 euro perché se non ricordo male sul sito c'era scritto che costava 2,80 euro appunto l'uno se la matematica non è un'opinione e sono dei colori veramente veramente belli questo qui che io lo adoro adesso non ho scritto il nome light p qualcosa non lo ricordo ma ve lo scrivo nell'info box ed è molto ma molto bello è tra un arancione un rosso ha di quei colori che sono magnifici quindi questo qua sicuramente andrà sulla chiave incastonato per realizzare appunto un pensierino poi questo qui che diciamo che come lo vedete più o meno è anche dal vivo è un po' particolare e si chiama metallic light gold due sì metallic light gold è molto comunque molto bello e questo qua anche questo dovrebbe essere un sapphire metallic sapphire qualcosa del genere adesso non lo ricordo bene è comunque questo blu elettrico molto molto bello quindi queste qui le ho realizzate anche per fare delle chiavette che vi ho appunto mostrato prima poi vado veloce perché purtroppo ho poco tempo ho preso queste due gocce non le sto a tirar fuori perché una acqua marine e uno crystal ab due le ho pagate 9 euro e 20 sono delle gocce 30 per 20 e vorrei realizzare appunto un ciondolo molto semplice sempre da regalare seguendo il tutorial di Jesse che ha realizzato questo ciondolo che gli ho sempre detto che mi piaceva e appunto magari per Natale ne realizzerò qualcuno per delle amiche quindi è molto molto bello e quindi ho preso da Sabrina queste due goccette poi ho preso dei riboli anche qua crystal quindi vabbè il colore tutti sapete qual è e li ho pagati totale tutte e due 6 euro e 30 ovviamente questo è uno da 14 mm l'avrò pagato adesso ve lo dico eh se riesco a recuperare il foglietto forse oh mamma come sono disorganizzata prometto che il 2013 oltre a pubblicare molti più video e diciamo a dedicarmi un po' di più al mio canale rispetto quest'anno che è stato un anno un po' così mi organizzerò anche con la telecamera o videocamera adesso vedrò se comprarne una o sistemare un attimo in modo decente il mio iphone in modo che posso girare con tutte e due le mani comunque pando alle ciance il cabochon da 14 mm l'ho pagato 1,50 euro mentre questo cabochon 4,80 euro ed è quello da 27 mm ed è una sberra non ne avevo mai preso uno da 27 mm quindi bellissimo 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 anche perché io l'ho pagato 4,80 euro mentre una mia amica in un negozio qua nel mio paese diciamo l'ha pagato 9 euro quindi un light rose o qualcosa del genere quindi neanche un colore di quelli particolari che uno poteva darsi una spiegazione del perché costasse così tanto quindi vabbè passiamo oltre ma torniamo a tutti i bellissimi acquisti che ho preso da Sabrina ho preso i famosi cipollotti perché? perché come ho detto ad alcune di voi io qua non li trovo e se li trovo costano veramente tanto quindi ho preso questi cipollotti che adesso vado a mostrarvi perché sono quelli che vediamo spesso in alcune review di ragazze molto fortunate che hanno magari dei pakistani o dei cinesi che li vendono purtroppo non avendoli e volendo realizzare qualcosa di veramente carino ho deciso di prenderli visto che Sabrina li aveva disponibili allora io i colori non li so ma vi do i codici così riuscite eh no non so neanche se riesco a darvi i codici perché non li so associare ai colori comunque ve li mostro dai poi guardate comunque il sito facebook di Sabrina Cristalli che metto sotto appunto il link e li ritrovate ecco quindi questo qui è il dei cipollotti però vi so dire sicuramente la dimensione che sono 6x4 millimetri molto molto belli di questo bianco e nero che è favoloso diciamo che se ce l'aveva anche da 8 li avrei presi perché avrei realizzato delle collane molto belli molto belle e e quindi veramente ottimi sia come materiali vedo che anche il tipo di colorazione particolarissima cioè io adesso non so se realizzerò dei braccialetti o delle una collanina adesso non lo so li ho presi perché intanto che devo fare quell'ordine lì mi sono fatta la scorta più o meno di questi mezzi cristalli però quindi questo qua questo verde sempre 6x4 con questi riflessi questo qua è quello che abbiamo visto in molte da Nunzia dovrebbe perlomeno essere quello anche se quei di Nunzia brillavano un sacco quindi però penso che sia appunto lo stesso e se non lo è li va molto vicino poi sempre 6x4 questo che è bellissimo questo è luminosissimo questo bianco opal con questi riflessi veramente veramente molto molto belli poi sempre 6x4 ho preso questo azzurro è un po' più voi lo vedete un po' luminoso luminoso un po' più acceso come colore scusate invece è un po' più opaco ma ha questi riflessi che sono appunto favolosi e poi ho preso un 8mm e li ho trovato di questo colore particolare questa specie di acqua si è tra un verde acqua e un un verde un azzurro comunque molto molto bello e poi ne ho preso uno proprio piccolo 4x3mm di questo colore qua che questo lo so dirvelo con certezza è il codice numero 5 perché ne ho preso appunto solo uno come sto dirvi che quello da 8mm il codice è il numero 1 e anche questo è carino magari in qualche creazione lo riesco a mettere quindi questo è tutto quello che ho preso mezzi cristalli daghe svaroschi chiavettine da sabrina sabrina come vi dicevo non delude mai e ah no non vi ho mostrato il regalo vado velocissima perché mi sta finendo la la memoria mi ha regalato questo pescionino in svaroschi e questi due fiorellini due uguali e niente quindi vi metto tutti i link della sua pagina facebook e a presto per un video sicuramente di di creazioni e vi mando un bacio ciao grazie di aver visto il video